Buongiorno, buongiorno, oggi martedì 8 marzo, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo nuvoloso su gran parte del territorio alto tesino, la tendenza è quella di un miglioramento, Massimo Moro in regia col suo aiuto diamo occhiate le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, la Volkspartei, sceglie Baur, candidato sindaco, sarà il legale amico di Langer, solo 5 voti a Valicher. Raddoppio del Megastore, l'ex sindaco Luigi Spagnoli chiede il rito immediato, voglio il processo riguardo all'indagine 20. Trovato vivo dopo 50 minuti sotto la valanga un turista tedesco miracolato ieri nella zona di solda. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, questa è l'apertura, sepolto dalla valanga e salvato, rimane sotto un metro di neve per 50 minuti trovato dal cane dei soccoritori. Medici di base tagli a chi supera i 1500 pazienti e ancora le ecodonne per risanare gli edifici storici l'8 marzo in modo alternativo. La cronaca cura del quotidiano Dolomiten, vedete Dolomiten in qualche modo dipinto di rosa proprio per celebrare la festa delle donne. Ci si occupa in apertura dei medici, dei medici di base con il limite imposto dalla provincia per dare spazio a coloro che si laureano adesso, adesso i giovani medici di base. Poi la grande soddisfazione da parte dei soccoritori di solda per aver trovato ancora vivo, praticamente illeso, un turista germanico sepolto da un metro di neve rimasto sotto la neve per 50 minuti. La cronaca cura del quotidiano Tagess, Zaitung ha ancora una volta presunti privilegi per i politici della regione, Trentino Alto Adige ci si occupa di una assicurazione contro gli infortuni da decidere chi paga. Chi paga il premio è tutto, è tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.